Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti nocciole e cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Ingredienti sono nocciole tostate, cioccolato fondente a pezzi, farina di tipo 00, zucchero di canna, olio di semi di arachidi, latte, lieve in polvere per dolci, sale e crema di nocciole. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero di canna. Lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte lo zucchero. Senza lavare il boccale mettiamo le nocciole e facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamole nella ciotola con lo zucchero. Senza lavare il boccale mettiamo il cioccolato fondente a pezzi. Lo facciamo tritare per 6 secondi a velocità 10. Prendiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo lo zucchero e il tridò di nocciole. La farina. Il latte. L'olio. Il pizzico di sale. E il lievito. Azioniamo il bimbi per due minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto. Adesso con l'aiuto di due cucchiaini andremo a formare i biscotti prendendo una parte del composto. Lo lavoriamo con l'aiuto dei due cucchiaini e lo posizioniamo in un pirottino. Proseguiamo così per tutto il resto dell'impasto. Posizioniamoli su una teglia. Cuocere in forno preriscaldata a 180 gradi per 15 minuti. I biscotti sono cotti. Lasciamoli raffreddare del tutto prima di decorarli con la crema alle nocciole. Biscotti, nocciole e cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie.